Io sono qui che aspetto il tuo secondo romanzo, non vedo l'ora di aggerlo. Volevo solo dire che siete la coppia migliore che conosco. Ti amo da morire, Margie. Andrea. Margherita. A chi dobbiamo la nostra fedeltà? Agli altri o a noi stessi? Scusa. Di cosa? E tu sei felice? Ma che domanda è? Volevo fare l'arredatrice. E perché hai rinunciato? La vita è fatta di scelta. Cos'è successo in quel bambino? Niente. Sono cinque anni che io penso soltanto a te. E tutto quello che riguarda me, sogni, ambizioni... i progetti, tutto fosse il secondo piano. E cosa vuoi? E' un altro star senza le te. E non� катer capaci che si rende la��e da un libro. E' un bell'un.